Bella Ciao, canto popolare italiano e inno della resistenza per eccellenza. L'avevi già ascoltata? Ma sapevi che è stata tradotta in oltre 40 lingue? E ne conosci l'origine? In realtà non conosciamo né l'origine né l'autore certo. Potrebbe derivare dal canto delle mondine nelle risaie del nord, o ancora da una melodia yiddish, o addirittura da una ballata francese di fine 500. Si è poi diffusa lungo la penisola durante la Seconda Guerra Mondiale, più probabilmente nel dopoguerra. Ma è grazie alla partecipazione di alcuni partigiani al Festival Mondiale della Gioventù a Praga nel 1947 che questo canto varca i confini nazionali, diventando un'icona della musica a livello globale. Simbolo di valori universali quali la libertà e l'opposizione alla guerra, senza alcun riferimento politico o religioso. E allora, viva la libertà e buona festa della liberazione a tutti! Grazie 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 a tutti!